Un anello per domarli tutti. Il tesoro. Dal libro capolavoro di Tolkien, Nelle sere di Natale, la trilogia che ha dato vita alla leggenda. Non tenerlo in vista. In versione integrale, Il Signore degli Anelli. Cosa ti dice il tuo cuore? Il ritorno del re. Domenica alle 21, sul 20. Il Signore degli Anelli